Mercoledì 16 agosto 2017. Mancano 137 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Serena. L'onomastico. Oggi l'onomastico di Serena è Rocco. Accadde oggi. Il 16 agosto del 1969 a Bethel, una piccola città rurale nello stato di New York, si svolge il concerto di Woodstock, il più grande raduno hippie della storia, nel quale si esibiranno tra i tanti anche gli Who e Jimi Hendrix. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri a Madonna, nata a Bay City il 16 agosto 1958. La citazione del giorno. Le donne sarebbero più affascinanti se si potesse cadere tra le loro braccia senza cadere nelle loro mani. Ambrose Bierce. Dice il saggio. Chi conosce gli altri è intelligente, ma chi conosce se stesso è saggio. Proverbio cinese. La parola preziosa. La parola di oggi è astruso. Questo aggettivo, anticamente, aveva il significato di nascosto, ricondito. Oggi indica invece qualcosa di poco comprensibile perché complicato, sottile o astratto. Ad esempio, un ragionamento astruso.